Anche Italia Viva critica aspramente le scelte della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale dopo la riduzione perimetrale della riserva del Borsacchio. Nella conferenza stampa convocata in mattinata, il partito regionale di Matteo Renzi tira le orecchie un po' a tutti, anche a chi ha deciso di astenersi dal voto. È cambiato che l'hanno abrogata con il favore delle tenebre di notte, quando nessuno se ne accorgeva o forse molti dentro il Consiglio regionale sapevano, hanno fatto finta di non sapere. Ma se questa era una norma così voluta dal territorio, perché non l'hanno resa pubblica, non l'hanno annunciata, non hanno detto che avrebbero fatto quest'operazione? Il problema è che si sentono padroni del territorio senza dover discutere con nessuno e hanno fatto quello che è la cifra poi di questa amministrazione regionale, la prepotenza sui territori e l'imposizione delle decisioni. Poi lo stesso Camillo D'Alessandro individua subito la risoluzione al problema. Noi oggi vogliamo proporre un percorso semplice, molto facile. Si può risolvere questo problema al prossimo Consiglio regionale. Non è appena pubblicata la finanziaria, non è ancora pubblicata, basta un articolo solo di legge che abroga l'articolo introdotto nella finanziaria. Non ci vuole niente. Cinque minuti, si abroga e poi si apre un dibattito pubblico su come doverlo riorganizzare, anche in termini di perimetrazione della riserva, così no, perché questa risponde a logiche che non conosciamo, fatto di notte perché si è fatto a favore di chi l'ha suggerita. Ma io credo che stando vicini alla campagna elettorale, molti hanno cercato qualche favore e qualche voto sul territorio, anche di coloro che sono contrari o almeno che sono contrari alla perimetrazione così com'è. Ma è una cosa molto grave, tra l'altro totalmente incostituzionale, e noi chiediamo al Comune, agli enti preposti, innanzitutto di impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Forse non ci si arriverà neanche. Oggettivamente si può risolvere il prossimo Consiglio regionale. Se non lo faranno sarà la prima cosa che faremo noi, i riformisti abruzzesi per D'Amico, a presentare un progetto di legge di abrogazione. Poi apriremo un dibattito sul territorio su come meglio perimetrarla. Sempre stamattina, dopo il comunicato stampa di Ramato, anche l'Associazione Agricoltori del Borsacchio ha voluto puntualizzare alcuni aspetti della vicenda, rimarcando la soddisfazione per la posizione assunta dopo la votazione in Consiglio regionale. Più che altro avevamo chiesto di mettere un po' di ordine in quella riserva che secondo noi era stata un po' fatta ad acqua di rosa perché non si può fare una riserva di mille ettari per bloccare l'economia agricola degli imprenditori agricoli. Noi quello che dico è che finalmente ci hanno ascoltato e hanno messo un po' di ordine in quella situazione che era già partita male perché non si può avere mille ettari di terreni, mille cento ettari di terreni bloccati per la riserva.